Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo primo concorso del The Shared Gaming Io sono Favij e qui con me c'è? Hai puffo Allora ragazzi vi spiego subito di cosa si tratta Questo è il primo concorso ufficiale del The Shared Gaming Cosa vuol dire questo? Che vuol dire che è il primo concorso ufficiale del The Shared Gaming No, ebbè Praticamente Allora, in questo concorso ci sarà la possibilità di vincere Non uno, ma ben due account premium di Minecraft Che sono stati gentilmente offerti da Taragna Che è qui davanti a me E niente, lo ringraziamo davvero tantissimo per averci dato questa opportunità No, per averci fornito i due codici che noi abbiamo deciso di utilizzare appunto per un concorso per voi E niente, allora In pratica vi spiego i requisiti per poter partecipare Questo concorso innanzitutto consiste nell'avere due account premium Quindi due codici GIFT Per poter fare l'upgrade del vostro account E farlo diventare premium Quindi potete sceglierevi voi il nome Eccetera Quindi non sono account già creati Ok, allora Il concorso consiste nel Dovete Da adesso in avanti Noi metteremo Una serie Noi del The Shared Gaming faremo una serie di Minecraft Che si chiamerà Naufraghi Ed è una serie che Su cui ci stiamo preparando veramente da tanto Che sarà Praticamente la faremo su quattro puntate Durerà quattro puntate Quattro video E in questi quattro video In ciascun video Metteremo Un Diciamo delle parole chiave In ogni video Una parola chiave per video Diciamo al minuto tipo 6 Del primo video Apparirà una parola chiave Che potrà essere Che ne so Nerd La prima parola che mi è venuta in mente E niente Questa la parirà nel primo video Durerà tipo La parola Ci sarà per 5 secondi Circa Poi nel secondo video A un tot Di tempo A un certo minuto Apparirà la seconda parola chiave Che Non lo so Potrà essere Ciao Non lo so Una parola inventata comunque E così via E così via Per il quarto E alla fine Praticamente queste parole qui Andranno a comparere una frase Che non sappiamo ancora quale Lo scoprirete Guardando i nostri video E niente Cosa Cosa consiste Praticamente dovete Dovete mandarci Alla fine Della serie di minecraft Le quattro parole chiave Messe in ordine Che comporranno la frase E Tra tutti quelli che ci manderanno Le parole giugostecche Comunque Non penso sia una cosa così difficile Però non lo date per scontato Perché sicuramente Alcune persone Dimenticheranno qualcosa sicuro Quindi Cercheremo di ingannarvi dai No no Non cercheremo di ingannare assolutamente Nessuno sarà facilissimo Certamente Non faremo una cosa Cioè Troppo banale Però Faremo una Cioè Veramente sarà Praticamente Relativamente semplice Perché Vogliamo dare la possibilità A tutti di partecipare Perché mettiamo queste parole chiave Perché in pratica È una cosa che aiuta anche noi Praticamente se Se voi vedete i nostri video E poi cercate le parole chiave Nel frattempo Nel frattempo Nel frattempo che partecipate Al concorso Che aspettate le parole Guardate anche i nostri video Un modo per farci conoscere Chiaramente no Quindi Voi guarderete i video Per vedere Chi sarà interessato a partecipare Al concorso E vi segnate le parole chiave Poi alla fine della serie Che durerà Durerà pochissimo ragazzi Una settimana e mezza Due settimane Sarà finito tutto Ci mandate il Le parole chiave E noi tra tutti quelli Che avranno risposto giusto Sorteggeremo due vincitori Che vinceranno ciascuno Un account premium di Minecraft Allora ragazzi I requisiti per partecipare Anzi Il requisito Perché possono essere Assunti tutti e due In un solo requisito È essere Naturalmente iscritti Al nostro canale TheShareGaming E essere iscritti Al canale del Capobastone Che anche lui Fa parte del concorso Ci sta aiutando Aiuterà a sponsorizzare il progetto Esatto Quindi Dovete iscriverti Al nostro canale E al suo canale So che molti di voi Provengono già dal suo canale Ma Comunque Per partecipare Per i nostri iscritti Dovete iscrivervi al canale Del Capobastone E per gli iscritti Del Capobastone Se volete partecipare Dovete iscrivervi al nostro Al contrario In pratica Praticamente Per aiutarci entrambi Ci stiamo aiutando Grazie a questo concorso E vi diamo la possibilità Di vincere Quindi ragazzi Non Mi resta che E augurarvi In bocca al lupo Per Comunque Chiaramente Molti diranno Potrebbe essere un fake Questo Noi non abbiamo nessun codice Alla fine Stanno solo bleffando Per aver iscritti Invece Per convalidare il tutto Alla fine della serie Faremo un nuovo video Registrato in live Dove faremo vedere Noi che Decretiamo il vincitore Sì Magari faremo L'estrazione in diretta Faremo l'estrazione in diretta Tramite un sito Che troverete in descrizione Di questo video Dove Tu metti un totale Di partecipanti E lui te ne estrae due Completamente a sorte E andremo a Eleggere i vincitori Che sono Nella casella di posta Che ci hanno mandato Le parole giuste E niente Ragazzi Il video finisce qui Auguro una buona fortuna a tutti E Ciao Caterina Ciao Caterina Ciao Caterina Ciao a tutti